Caricolisti, Team RZ, Yamaha 4.50, Emanuele Giovannelli, schiera il giovane pilota Edgar Mangelis, grande prestazione nelle libere soprattutto e nelle cronometrate, sesto posto a ridosso di Varnia, Paul Holmes, Nicola Montalbini, Schreiber quarto, Evan Grisven, Cupri dietro, Andrea Cesari dietro, grande risultato del Team RZ di Emanuele Giovannelli, Team Manager, Direttore Sportivo, Giova se c'eri te cosa facevi? Un ventesimo! No, nelle crono non è vera, dai, e poi i 35 minuti di gara che... 35 minuti non ci penso neanche, però forse nelle crono un tempo di scelto si poteva fare. No, è stato bravissimo, è stato perché è un ragazzo molto, sa quello che vuole, molto posato, quindi eravamo un filino morbido di sospensioni per questi saltacci. E per questo terreno così duro che hanno bagnato, si pensava morbido, invece poi è venuto... Sì, sì, fai dico, eravamo un filino morbido, però il tempo è buono perché al di là del sesto che sono veramente racchiusi in poco, a parte i primi due, dal terzo a Edgar sono molto vicini. È importantissimo domani partire bene, diciamo, con una buona partenza penso che può stare dei movimenti lì tra il terzo e il quinto. E questa è una buona soluzione, abbiamo visto la moto del team RZ andare veramente bene sul tracciato, abbiamo visto il tuo pilota lavorare molto sulla scelta delle traiettorie, è un consiglio che gli ha dato una vecchia volpe come Emanuele Giovannelli? Di sicuro lo cerco di aiutare perché è ancora molto giovane, ascolta, ed è molto importante che si lascia consigliare, poi dopo diciamo che la colpa migliore la trova sempre lui, però diciamo che se posso ritornare da fuori cerco di evitare. Sì, lo vedevamo, alcune curve strette, poi dopo largo proprio entrare e fare delle prove su ogni curva per riuscire a strappare la soluzione migliore. Sì, infatti diciamo che ha provato un po' per quel giorno, il tempo è stato buono perché ha sempre abbassato, però diciamo che tra fare il terzo, quarto, quinto, sesto non cambia niente, è una gara domani. Eh sì, perché si parte tutti in linea comunque nel quad cross e 35 minuti di gara, Giovan, ma il serbatoio basterà? Speriamo. Speriamo. Tutti ti impienerasi. Giovan, qualcosa di innovativo sulle moto dall'ultima apparizione, qualche tuo ultimo lavoro? Speriamo, abbiamo un motore completamente nuovo, rifatto molto più potente, sono molto contentissimo, si dice che non si assomiglia neanche a quello di prima, che andava già molto bene. Abbiamo aumentato soprattutto la coppia, che mi aveva chiesto un po' più di coppie, più che agli altri, e molto contento. Abbiamo visto infatti quando girava stretto per fare meno strada, veramente riuscire a fare metri su metri, uscendo stretto e poco veloce dalle curve. Sì, lui è abituato a una moto, la sua che ha più cubatura, quindi ovviamente hanno più, un po' più schiena a metà. Siamo riusciti a fargli la moto come voleva lui e per me è andata alla sua stazione. Giovan, da oggi a domani, modifiche alle sospensioni in previsione gara? Sì, l'abbiamo indurita decisamente molto, perché vedevo che era un pelino lento in questi tre salti veloci, perché spacciava molto. Ecco, un punto dove Nicola Montalbini ci ha confidato a essere molto dolento, cioè lì ti giochi lo zero punti, perché Nicola ti ha detto, guarda, nelle qualifiche abbiamo dato tutto, abbiamo preso delle rischi, ma abbiamo massacrato i mezzi. Nelle qualifiche i primi tre piloti hanno confermato di aver saltato nel piano per fare il tempo. in gara, quanto è importante la gestione del mezzo su quei salti? Perché saltare corto vuol dire girare più lentamente, ma saltare sul piano vuol dire 35 minuti sicuramente non finirli e rompere la sale o peggio. È quello che dicevamo ieri, oggi purtroppo per il tempo può essere una buona soluzione, perché cavi di un secondo, però per 30 minuti di giro pure che le moto non ce la fanno, le vanno in fondo. E lì cosa si fa? L'ordine delle scuderie è dire ad Edgar di andare piano o incrocia le dita? Il team manager dice più gas. Di andare piano non ce n'è bisogno, perché lui è abbastanza intelligente e sa che non deve esagerare per 30 minuti, perché purtroppo non è una moto, ma è un quad e potrebbe risentirne ad arrivare alla fine. Quindi meglio perdere un secondo per casomai guadagnare una posizione alla fine, perché gli altri ha rotto. Quindi anche un'intelligenza tecnica di gestione della gara abbastanza richiesta per domani? Di sicuro. E lì siamo sicuri che Manueli Giovannelli non sia secondo a nessuno? Per forza. Grande Giova, complimenti per il risultato e un arrivederci domani dopo la gara 1. Grazie, ciao a tutti.